Continuano gli incontri dei ragazzi della Carducci Trezza con i coetani e compagni d'Europa. Crescita, confronto ma anche dialogo tra culture europee forgiate nei rispettivi stati. Temi come la violenza di genere o la libertà di espressione, la scoperta del folclore, le tradizioni dei posti visitati o più semplicemente imparare a vivere all'interno di una famiglia come se si fosse figli a tutti gli effetti. Tutto questo si chiama Erasmus Plus ed è il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014-2020 e da cui ha aderito l'istituto comprensivo Carducci Trezza e che sta vivendo un momento di grosso spessore con studenti provenienti dall'Inghilterra, Spagna, Portogale e Norvegia. Nelle scorse ore l'incontro con Amnesty International ciascun studente ha detto la propria spiegando il proprio punto di vista, piccoli gesti che possono migliorare il mondo. Oggi abbiamo pensato di parlare di libertà di espressione per vari motivi. Il primo è perché è un argomento che non si può non toccare con ragazzi di questa fascia d'età e poi perché abbiamo, diciamo, tra i casi di cui si occupa Amnesty International ce n'è uno oggi, quello di un blogger saudita che si chiama Walid che è in carcere e dovrà scontare 15 anni di galera se non cambia nulla per aver espresso le sue opinioni tramite social network. Quindi alla fine della giornata di oggi raccoglieremo anche dei messaggi di solidarietà per lui. Noi abbiamo l'indirizzo della moglie come Amnesty International e lì spediremo alla moglie e quindi faremo un gesto concreto di promozione della libertà di espressione. Creato anche un cartone animato progettato e realizzato dai ragazzi della seconda B della scuola secondaria di primo grado rientrante nell'azione Amnesty Kids un cartone animato che ha come protagonista l'integrazione e l'inclusione ispirato alle attività di Amnesty International e in linea con il lavoro sui diritti umani realizzati proprio dall'Istituto Carducci Trezza. Certamente è importante perché questa è la fase della costruzione dell'identità e quindi è fondamentale analizzare tematiche di questo tipo che i cittadini di domani riusciranno poi magari a realizzare come obiettivo di vita visto che in Europa, così come in Italia, c'è ancora tanto da fare in questo senso, in questo ambito. Per cui noi ci auguriamo di dare il nostro piccolo contributo. Rispetto a tutti i lavori che sono stati prodotti, che ce n'è qualcuno che l'ha particolarmente colpita. C'è un cartone animato molto bello prodotto da una classe seconda della secondaria che è il risultato di un lavoro corale, certosino, di grande pazienza, ma che a mio avviso può arrivare direttamente al cuore dei ragazzi perché quale forma più immediata che un cartone animato, così vicina al loro immaginario, al loro modo di comunicare. Essere cittadino consapevole vuol dire soprattutto conosce i propri diritti ma anche rispettare i diritti altrui perché sappiamo bene che il diritto di una persona è collegato con il diritto anche di chi è accanto a lui. Ed è per questo motivo che nella nostra scuola quest'anno abbiamo messo in alto una serie di attività con Amnesty International. Noi abbiamo tre classi che sono classi Amnesty Kids che si occupano di diritti umani. Hanno partecipato ad azioni e stanno partecipando ad azioni di Amnesty, azioni urgenti, con una serie di attività adatte alla loro età, con testi, con storie, con disegni. Tant'è vero che come prima avete potuto vedere abbiamo creato anche un cartone animato che rappresenta proprio il diritto all'integrazione e all'inclusione.